Ci tenevo a ringraziare personalmente tutti coloro che hanno collaborato con me. Il presidente Donato Toma ha iniziato così la conferenza stampa di fine mandato sulle partecipate della regione molise nel palazzo di Via Genova a Campobasso, rimarcando che lascia una situazione positiva con bilanci inattivo. Fin Molise, Molise Dati, Comunità Montane, IACP, Sviluppo Italia Molise Cultura, gli enti che lavorano per conto della regione sono stati passati in rassegna un po' tutti. Fin Molise ha un patrimonio di 30 milioni di euro e produce ulteriori liquidità e ulteriori riserve. Molise Dati gestisce diversi milioni di euro di fondi regionali e produce servizi per la regione, per la sanità in particolare. Abbiamo le comunità montane che stanno vendendo per milioni di euro il patrimonio e hanno quasi esaurito il pagamento dei debiti. Insomma, una situazione abbastanza, io direi, felice, ma che dipende sempre dal bilancio regionale. Fino ad oggi ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta con risultati lusinghieri. Abbiamo la necessità di sistemare il bilancio regionale per continuare a gestire, perché le partecipate gestiscano servizi utili ai cittadini e alla regione. Tra i risultati raggiunti è anche la riduzione delle comunità montane da 6 a 3. Qualche problema si è riscontrato con gli IACP, per i quali, dice Toma, c'è bisogno di una revisione della norma di estinzione. Ma poi ha anche ricordato l'importante lavoro svolto da Finmolise durante la pandemia, quando ha sostenuto con fondi regionali 5.000 imprese in forte difficoltà. Le partecipate vivono grazie al bilancio regionale. Il 24 giugno, dice Toma, proveremo a presentarlo in ritardo. Il bilancio arriva in ritardo perché il bilancio non era redigibile, in quanto mancava una norma che il governo ha assunto un mesetto e mezzo fa, che ci consentisse di dilazionare per un tempo abbastanza prolungato, 10 anni in particolare, l'ulteriore disavanzo che dovevamo ripianare. Adesso si può fare, è arrivato ai limiti della scadenza elettorale, ce la stiamo mettendo tutta, non so se ci riusciremo, ma magari.